Come testare un robottino da parte delle mie gattine Ci stanno rompendo i scatoli in questo poverazzo Vediamo 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 come funziona Dai provate a testatelo dai testatelo Testate voi per me Testatelo testatelo Vediamo Ecco vediamo vediamo che fa Vediamo che fa L'hanno spostato dalla sua base Vediamo che fa Vediamo se ritorna alla sua base Vediamo se ritorna alla sua base Tanto per cadere Vediamo se ritorna alla sua base Grazie si ritorna Grazie 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 a tutti.